Ciao, sono Matt Armand, uno dei maggiori esponenti alla letteratura cico-klovacca, a proposito. Ho qui con me un libro di grammatica italiana, a me, eccolo qua. Sono venuto qui oggi per promuovere la scrittura libera, per dire no a chi di quei fastidiosissimi accenti, apostolo, hacker e punti di sospensione. Ho brevettato personalmente un metodo infallibile per debellare questa fastidiosissima veste che noi chiamiamo grammatica. I'm not a slave to a god that doesn't exist, and I'm not a slave to a world that doesn't give a shit. ahhh Uuuuuh ohhhh ahhhh ahhhh oooooh che è? no si è rotto tutto! oh che gomme o livoli delle te... ahhhh ahhhh sono qui ahhhh eccolo qua che c'è? Sono metà uno dei maggiori esponenti Ciao sono metà uno dei maggiori esponenti No, era un video